L'Unione delle Province Marchigiane e la Federazione Regionale degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori hanno firmato oggi in provincia di Pesaro Urbino un protocollo d'intesa votato alla formazione obbligatoria per gli iscritti agli ordini professionali nel territorio regionale e per i dipendenti delle cinque province. Un documento siglato dal presidente di UPi Marche della provincia di Pesaro Urbino Giuseppe Paolini e da Viviana Caravaggi Vivian, coordinatrice di Federarchi Marche. Il protocollo con validità di cinque anni avrà l'obiettivo di valorizzare la formazione continua dei dipendenti delle province, oltre a intensificare una collaborazione fra gli enti in merito a temi quali tutela del paesaggio e gestione del patrimonio, paesaggio ed edilizia pubblico-privata, prevenzione del rischio sismico e opere pubbliche d'emergenza. Abbiamo voluto fortemente intraprendere una strada, una strada che possa creare delle opportunità attraverso anche e soprattutto una formazione, una formazione di qualità, una formazione che non informi ma che formi e questo naturalmente attenzionando anche le esigenze degli enti, le esigenze di fabbisogno degli enti ma anche avendo una cura per crescere la professionalità degli architetti. Per questo che abbiamo proposto come Federazione Architetti Marche il fatto di siglare un protocollo per la formazione che possa creare opportunità anche di lavoro per i nostri colleghi. Tutto il mondo è stato creato da un grande architetto. Dobbiamo continuare con gli architetti a mantenere la bellezza del nostro territorio. Abbiamo visto degli scempi nel nostro territorio che sono incredibili per cui credo che con una sinergia tra gli architetti e le classi politiche e le classi amministrative dobbiamo fare in modo che questo territorio venga tutelato al massimo perché è già troppo quello che abbiamo fatto. Per cui questa firma di questo protocollo porterà della formazione, porterà a una stretta collaborazione con l'ordine degli architetti e per fare quello che una volta era il libro che avevamo stampato, farla mantenere una provincia bella.